Una flessione già iniziata nei primi mesi dell'anno, peggiorata nell'ultimo trimestre. E' la fotografia dell'occupazione in Abruzzo scattata dall'Istat. I dati diffusi oggi si riferiscono al terzo trimestre 2022 e sono inequivocabili. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, infatti, gli occupati da 491.000 sono diminuiti a 471.000. Una perdita secca di 20.000 unità, circa il 4%, a fronte di una crescita media italiana pari all'1,1% anche l'export punto di forza abruzzese non decolla. E poi ci sono i settori in sofferenza, quello industriale e quello delle costruzioni. Tiene invece l'agricoltura. Ne abbiamo parlato con l'economista Pino Mauro. La valutazione complessiva è che c'è una situazione, a mio avviso, di pesantezza economica, nel senso che cominciano ad avvertirsi i sintomi di una decelerazione del sistema economico a seguito sia della pandemia sia a seguito del conflitto bellico. Per quanto riguarda il dato sull'occupazione, si registra un calo di circa 20.000 unità lavorative, che è un calo piuttosto significativo. secondo me, oltre al fatto di questi segnali che cominciano ad avvertirsi, c'è un altro elemento di riflessione. L'Abruzzo aveva avuto un'impennata fortissima verso l'alto tra il quarto trimestre del 2020 e il 2021. Ora è chiaro che superata questa impennata con l'avvento della guerra. Chiaramente c'è una fase di assestamento, una fase di assestamento che poi si ripercuote, secondo il mio punto di vista, soprattutto nel settore industriale. E infatti il settore industriale è quello che soffre di più. Mi pare che perde circa 13.000 unità lavorative. L'altro settore che è penalizzato è il settore delle costruzioni, che però migliora rispetto al 2019, cioè pre-pandemia. Mentre durante quest'ultimo periodo si assiste a questo peggioramento di circa 8.000 posti di lavoro. Il settore dei servizi e invece il settore che tiene migliora leggermente, ma niente di straordinario. Uno dei settori anche più importanti per l'Abruzzo è sempre stato quello dell'agricoltura. Qui a che punto siamo? No, no, l'agricoltura tiene, non c'è un elemento espansivo, però diciamo che mantiene lo stesso numero di occupati all'incirca. Il dato fondamentale è quello che dicevo prima, è questa ripercussione sul settore industriale che, come è noto, la nostra è una regione manufatturiera soprattutto, ci sono le grandi imprese che operano nel settore industriale ed essendo una regione manufatturiera è evidente che tutto ciò che capita all'industria può si ripercuote su tutto il sistema economico. Insomma, l'Abruzzo, pur non brillando, si difende come può. Non c'è un tracollo, sia ben chiaro, è una tenuta complessiva ed è necessario al più presto mettere in cantiere quelli che sono i provvedimenti, gli investimenti legati soprattutto sia al PNRR ma ai fondi europei in generale e agli investimenti privati.